La Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, omaggia i medici dell'Azienda Ospedaliera di Padova, uno degli ospedali in prima linea della lotta al coronavirus. È la prima visita ufficiale per la Presidente Casellati di ritorno nella sua città dopo la fase più difficile della pandemia. Ad accogliere la seconda carica dello Stato, le maggiori autorità cittadine, dal sindaco Sergio Giordani al prefetto Franceschelli, dal questore Fusiello al rettore dell'Università Rosario Rizzuto, fino al direttore dell'Azienda Ospedaliera Luciano Flor e ad Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia, nonché autore di importanti studi relativi alla pandemia in corso. Dopo due mesi di lockdown trascorsi a Roma, Elisabetta Casellati torna a Padova con parole di apprezzamento e stima per il lavoro svolto dal personale sanitario. Sono qui per dire il grazie mio e degli italiani. Padova è un modello per il Veneto, per l'Italia, ma per il mondo, sia da un punto di vista dell'organizzazione che ha saputo fare, sia da un punto di vista della ricerca, che è una ricerca avanzata. Io mi auguro che da qui, per il bene dei nostri cittadini, ci sia o si scopra quella che possa essere la terapia e anche, speriamo, il vaccino. Nel chiostro dell'ospedale Giustinianeo, la Presidente Casellati ha portato il suo saluto direttamente a medici ed infermieri. Oltre ai ringraziamenti, la promessa di un riconoscimento maggiore. Il Senato, ha dichiarato la Presidente, ha dato un segno importante, sottoscrivendo un disegno di legge per istituire una giornata dei camici bianchi. Ai fatti devono seguire i fatti, è tempo che per il personale ci sia un fine mese con più soldi in tasca. L'elogio al lavoro svolto dalla Sanità Padovana è stato condiviso anche dal Sindaco Giordani, così come da Andrea Crisanti. Il virologo però non ha perso l'occasione per lanciare un monito riguardo l'utilizzo della mascherina. Purtroppo in televisione hanno fatto vedere altre città dove si vede gente affrollata senza mascherine. Io voglio dire a queste persone, noi abbiamo lavorato giorno e notte per arrivare a questo punto. è veramente un delitto spregare il lavoro fatto e il punto a cui siamo stati. Ecco, questo è il messaggio che voglio dare.